Sottolineavi tu in un tuo scritto in particolare la novella di Luigi Polito sul primo stipendio Quando torna a casa Formigliabile, formigliabile Comunque quando Luigi Polito torna a casa e butta sul tavolo il frutto del suo primo guadagno intitolato Veramente comomente Io quando ritorno a questa poesia mi comunque sempre Luigi Polito Che personaggio Come Giovanni Verde, come tanti personaggi che hanno arricchito la vita di Forio Visto che nei tuoi volumi che custodisci nella tua biblioteca ci sono tanti riferimenti anche alla storia di Forio Bar Guerre, tutti i pittori che hanno animato il Bar Internazionale Tu hai dedicato anche un tuo libro a uno di questi personaggi sul cubano Che grande amicizia Tenevo sul cubano Il quale era sempre vicino al bar Maria E si sedeva sempre il cubano alla boutique di fronte al bar Maria Si sedeva e sapeva di tutto Chi era questo cubano? Come mai arriva a Forio? Perché si trova a Forio il cubano e come mai hai poi stretto amicizia con questa personalità? Il cubano era prima nel gruppo di Fidel Castro Venne a Forio e si sposò con la figlia Carciofola Come si chiama? Non ricordo il nome Calise Calise, cognome E prese piede a Forio vicino al bar Maria Con grande amicizia Amicizia, nel senso dell'amicizia Io ho scritto un libro sul cubano Poi ve lo regalo Perché ce l'ho Luigi il cubano Era un eccellente pittore, grafologo Luigi il cubano Di cui tengo ancora, a parte il libro Tengo ancora degli originali che lui mi lasciò Luigi il cubano Tra gli altri personaggi Che ricordiamo con maggiore affetto a Forio C'è certamente Barger Perché è importante questo pittore? Perché a suo modo ha segnato una stagione della nostra Forio? Perché Barger Se ne scappò Dal regime nazista E non so come Venne a Forio Trovò accoglienza a Forio E lui dipingeva I quadri Gli acquarelli Era un acquarellista di primo ordine E quello è lui Vedi? Quello da lui Con la testa E lui Barger Che abitava proprio qua vicino Abitava E fece Un grosso quadro Che ebbe Un successo mondiale E date che Barger Viviva con quel che Col suo lavoro Stava qua vicino Allora quando mi hanno detto il quadro Ci chiamò A me Per Ringraziarmi del contributo A me Nini Cavuana O qui Marescialle Rock E Michele Sorrentino Che io Non so che Stà a Milano Dovrebbe stare Impegato alcuno Di Milano Voi in pensione Chiaramente Per fare Una Una cena Succulenta Barger Per lui Noi eravamo giovani Chissà Colò La vasta E lui Aveva Stà benvenuti Quando faceva una cosa Succhiava Allora Succhiava Allora Noi Giovaretti Ci mettevano A leggere Succhiava Ma che Credi che sono subito Certo Barger Erano periodi In cui Qualsiasi cosa Significava Una bella cosa Diciamo Barger Barger Tanti personaggi Barger Vogliamo ricordarli insieme Ma c'erano anche Non solo Quelli che venivano Diciamo Da Da Fuori Su cui A volte Un certo Provincialismo Li porta Un po' Ad esaltare Fin troppo Ci sono alcuni Che pur nella loro Grandezza artistica Diciamo così Però Avevano Diciamo Dei lati Che tu Non hai esitato A Non dico Condannare Ma da cui Hai preso le distanze Penso a Caput Penso allo stesso Oden Oden è stato Il grosso personaggio Abita Qua Il più grande personaggio Deve pensare Che io Sono stato Nei giorni successivi Nei giorni successivi Di Oden E c'è una lapide Dedicata a Oden Westmister Ama il tuo cattivo vicino Con il tuo cattivo cuore Diceva Oden Grande personaggio Un poeta A livello mondiale Di tutti i tempi Veramente Un grande Di tutti i tempi Sì Oden Bello Dei ricordare Quando passa Per determinati luoghi Di Alla Mi ricordo Mi tocca Direttamente Qua Di C'era C'era Proprio La via Parecchie volte A seconda Le Le Amministrazioni Di dedicare Il vicolo Dove abitato Oden E farli dedicare Una strada Qual è Qual è il vicolo Vico San Giovanni Vico San Giovanni Ad Oden Una bella proposta Luigi il cubano Luiz Felipe Cogliato Noi chiamavamo Il cubano Perché veniva Veniva da Cuba E Fu nominato Con la moglie Adeli Adeli Che no Carciofo Non mi ricordo Adeli Era la mamma Se lo tengo Uno Che ho preso Un libro A Tessè commerciale A Vienna E Vedate che Lui Era esplosivo Scrisse Una lettera Che non era D'accordo Con Fidel Castro Ma E Quindi sfidò Diciamo Il leader Della rivoluzione Cubana E E E Le dice Vieni qua Che ne parliamo Non fu così Si genuo D'andare lì Adò fra i Fu riusciti Fu riusciti A Miami Dove c'erano tutti Fu riusciti Cubani E da lì partì Però La ripresa di Cuba Alla baia dei porci Che però Non andò Non andava Bene E lui E lui E lui E' morto là